Continua a tenere banco la questione Maverick nella costa molisana, un progetto strettamente legato all'impianto eolico previsto su gran parte del territorio del Basso Molise. Le associazioni Casa dei Diritti e Consumer, rappresentate dall'avvocato Laura Venitelli e Federco Pesca di Domenico Guidotti, hanno portato ancora una volta in campo le loro motivazioni per le quali la domanda di concessione demaniale per l'eolico offshore in Molise è irricevibile. Bisogna prima di tutto rispettare il piano regolatore del mare, che non prevede le pale, afferma la Venitelli, ed è la nostra intenzione portare avanti una battaglia che rispetti la dignità del territorio. Il progetto definitivo del parco eolico offshore Molise, proposto dalla Maverick SRL, prevedeva inizialmente l'installazione di un impianto di produzione di idrogeno verde da 800 megawatt elettrici di potenza nella zona industriale di termoli, nel periodo compreso tra gennaio 2028 e dicembre 2033. Un'iniziativa da subito osteggiata da diversi comitati e associazioni locali, che intendevano sostanzialmente difendere e preservare l'incontaminazione di tutto il territorio, includente oltre termoli, anche i comuni di Campomarino, Montenero e Petacciato. Perché non siamo d'accordo? Non perché non siamo d'accordo sull'energia da fonti rinnovabili, assolutamente questo è nel nostro intento, quello di favorire, ma se vediamo che un progetto del genere blocca tutto lo sviluppo della costa, all'interno di quest'area che diventerà un'area in concessione, come se fosse un'area privata di 219 km2, non si potrà fare nulla, lo dicono loro nel loro progetto. Dicono loro nel loro progetto anche una cosa interessante, a differenza di quello che hanno sostenuto anche con comunicati stampa, ovvero sia che quella che è l'energia del parco eolico non arriverà neanche un centimetro al popolo molisano. Ed è proprio l'area marittima e portuale di questi comuni, interessata dal progetto, che guidotti definisce come assolutamente nociva per i pescatori, soprattutto per la notevole riduzione dell'area accessibile per le varie attività di pesca, come quella a strascico, che verranno ridotte del 30%, come contenuto anche nel nuovo piano d'azione europeo. Con il nuovo piano d'azione europeo ridurranno ancora di più del 30% le zone di pesca, adesso ci mettiamo anche le paleoliche a 5 km da Termoli, quindi il pescatore ormai è a rischio di estinzione, quindi non possiamo non essere d'accordo con questo, ma non solo la pesca a strascico, io immagino anche la pesca delle vongole piuttosto che la piccola pesca, quindi sarà costretta ad essere peggiorata, voglio dire, l'azione sarà ancora di più ridotta rispetto al mare che abbiamo.